I portuali di Trieste confermano il blocco di venerdì e annunciano l'adesione di altri scali. Il presidente dell'autorità portuale D'Agostino vede pochi margini di trattativa. In fermento il sistema istituzionale ed economico si rischia un danno enorme. Se alcune categorie non mollano sul certificato ci sono migliaia di lavoratori che useranno i tamponi per ottenere il Green Pass. C'è confusione però sui controlli a campione e sulle regole, come spiega la presidente di Confindustria Odine, Anna Mareschi Danieri. Secondo la fondazione Gimbe, per garantire l'accesso al lavoro dei non vaccinati in Italia servono 8 milioni a settimana rispetto all'1 milione e 200 mila attuali. Il costo sarebbe insostenibile per il servizio sanitario, 180 milioni di euro a settimana. Grazie a due bandi aperti dalla regione per 9 milioni di euro si punta a sviluppare i consorsi della regione. L'obiettivo è arrivare a mille nuovi posti di lavoro grazie alla facilitazione degli insediamenti. Dopo tre scompite a un pareggio i bianconeri decisi a invertire la rotta, Gotti ritrova anche Iaialo. Per domenica Molina in forte dubbio rientrerà venerdì notte dall'Argentina. Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con il nostro telegiornale in diretta edizione della sera. Avete sentito in primo piano i problemi scatenati dall'obbligatorietà del Green Pass prevista per venerdì. Timori da parte delle aziende e alcuni ambiti rischiano la paralisi e anche la rabbia di lavoratori di diverse categorie. Un muro contro muro che sembra portare a notevoli difficoltà che potrebbero emergere nella giornata di venerdì. Per tutti gli aggiornamenti, perlomeno su questo tema, perché se ne è parlato proprio pochi minuti fa in sala Iace a Udine, c'è in collegamento in estera la nostra Angela Accaino che ha appena sentito proprio il governatore Fedriga su questo tema, anche in virtù del suo ruolo di presidente della conferenza delle regioni. Angela, a te la linea. Buonasera Valentina, a te e a tutti i nostri telespettatori. È iniziata in sala Iace una conferenza alla quale partecipa anche Fedriga. Si parla di giustizia, di giustizia sfiduciata con l'ex magistrato Carlo Nordio. Fedriga che è arrivato, nota di cronaca, un po' in ritardo proprio perché ha partecipato alla conferenza unificata Stato-Regioni durante la quale si è parlato anche della questione tamponi per il Green Pass. C'è da dire che non ci sono delle novità sostanziali. Fedriga ha ribadito che le regioni hanno sottolineato la difficoltà, l'impossibilità a garantire i tamponi necessari per ottenere il Green Pass a tutte le persone che non sono vaccinate e ha anche sottolineato che il sistema sanitario regionale in questo caso non si può sostituire o meglio non può offrire appunto i tamponi per il Green Pass sostituendosi di fatto in questo caso all'obbligatorietà del vaccino. Purtroppo non ci sono al momento delle novità per quanto riguarda eventuali strade alternative per far fronte alla carenza di tamponi per chi non ha fatto il vaccino e vuole ottenere il Green Pass. Ma andiamo a sentire proprio le parole di Massimiliano Fedriga che siamo riusciti a fermare poco prima dell'ingresso in sala. La proposta che aveva avanzato lei ieri di questi tamponi meno invasivi quasi fai da te è stata ascoltata, è stata accolta, ci sono dei riscontri? Sì, penso che il governo la valuterà, dopo ovviamente dipende dal governo del CTS, le regioni non vogliono sostituirsi al governo, come io non voglio sostituirsi al governo chiaramente, è stata un'ipotesi che il governo sono convinto stia valutando e penso che nelle prossime ore, nei prossimi giorni potremo avere una risposta perché noi dobbiamo ovviamente garantire a tutti il diritto alla salute e quindi il vaccino in primo luogo ed è ribadisco la parte fondamentale o nel caso il tampone, sono due strumenti di riduzione del rischio che dobbiamo sfruttare soprattutto per non ricadere in situazioni nelle quali abbiamo visto lo scorso anno, si è visto chiudere attività economiche. E' preoccupato per la giornata di venerdì? Non sono preoccupato, faccio un appello all'equilibrio e responsabilità a tutti, qua blocchi o altre cose simili rischiano di mettere a rischio altri posti di lavoro, di lavoratori che vogliono semplicemente svolgere le loro attività e portare lo stipendio a casa per se stessi e le proprie famiglie, devo dire che le fake news sono state devastanti sul vaccino e per questo penso che il governo e tutte le istituzioni debbano combattere con forza per raccontare la verità dei fatti, l'efficacia del vaccino, la sicurezza del vaccino e il monitoraggio portato avanti dalle istituzioni competenti. Dopodiché è difficile combattere contro un'ideologia anti-vaccino che ho visto svilupparsi in questi mesi, mi auguro però che le persone che hanno paura oggi di farsi il vaccino possono essere tranquillizzate dalla verità dei fatti e dalla sicurezza che hanno anche per se stessi. Un'ultima battuta sul sistema sanitario regionale che lo sappiamo è autonomo rispetto a quello nazionale, si sta attrezzando in qualche modo per potenziare l'offerta di tamponi? No ma il pubblico non può sostituirsi in questo caso per garantire il Green Pass, non è prevista la normativa nazionale e non avremo nemmeno la forza perché stiamo facendo già decine di migliaia di vaccini quotidianamente e non è che possiamo pensare di farlo per il Green Pass perché vorrebbe dire abbandonare tutte le attività che facciamo per il tracciamento, quindi questo è tecnicamente impossibile, è ovvio che c'è da rivolgersi a strutture private come le farmacie che devo dire stanno facendo un grande lavoro ma c'è un limite nei numeri e su questo quindi dobbiamo trovare anche soluzioni che possano integrare queste soluzioni. E sulla questione Green Pass abbiamo chiesto un commento anche al protagonista dell'incontro di questa sera in Sala Iace l'ex magistrato Carlo Nordio, lo ricordiamo si parla di giustizia, di giustizia sfiduciata, della credibilità della magistratura dopo il caso Palamara ma andiamo a sentire quello che ci ha detto Nordio proprio in tema di Green Pass e poi nelle prossime edizioni dei nostri ITG vi proporremo anche le altre interviste che abbiamo raccolto e in cui ci siamo concentrati soprattutto sul tema della giustizia. L'intervista a Carlo Nordio e poi da Lina allo studio. Dottor Nordio sul tema d'attualità il Green Pass obbligatorio da venerdì per tutti i lavoratori, un decreto che secondo alcuni è anticostituzionale, lei come la vede? Io ho detto sin dall'inizio che il Green Pass, il vaccino più che essere un obbligo deve essere un requisito, requisito nel senso che se una persona fa una vita normale, ritirata e non mette a rischio gli altri con il contagio non si vede perché debba munirsi di un Green Pass e tantomeno vaccinarsi. Se però entra in contatto con gli altri e quindi gli espone il rischio di contagio, più aumenta questo rischio e più è vincolante l'obbligo di essere affrancati dalla malattia e dal contagio. È un po' come guidare l'automobile se sei miope, nessuno deve costringerti ad andare dall'oculista se ci vedi male, ma se vuoi guidare la macchina devi munirti di lenti altrimenti fai una catastrofe. Poi che sia obbligatorio il Green Pass piuttosto che il vaccino, questa è altra questione che può essere soltanto discusa e risolta dal Parlamento e non con decreti ministeriali come è stato fatto per esempio nel Conte 2. Queste allora le parole dell'ex magistrato Carlo Nordio che avrete modo poi di riascoltare all'interno della nostra trasmissione alle ore 21 Fair Play con Francesco Pezzella. Le preoccupazioni del mondo economico e istituzionale però si stanno concentrando sempre di più riguardo al porto di Trieste che rischia il blocco da venerdì. I lavoratori hanno annunciato di aver allargato la protesta anche ad altri scali italiani, ad esempio Genova, ma non solo. Per il momento il presidente dell'autorità portuale, Zeno D'Agostino, non vede margini di trattativo o perlomeno molto scarsi dopo aver appaventato le sue dimissioni. In molti richiamano al buonsenso il mondo politico in primis con il governatore Fedriga, ma anche le categorie economiche. Gli spedizionieri dicono si rischiano di bruciare. 15 anni di lavoro. Sentiamo. Situazione in stallo, ma la tensione sale in porto non solo a Trieste. I lavoratori non arretrano, confermano il blocco dello scalo da venerdì se non cambieranno le regole sul Green Pass e rilanciano. Si fermeranno anche gli altri porti del paese. Lo ha annunciato il portavoce del Comitato dei Portuali di Trieste, Stefano Puzzer. La Confindustria Alto Adriatico, che abbraccia anche le attività portuali di Monfalcone e Trieste, arriva la conferma che non sarà chiesta alcuna proroga sui tempi di applicazione del DPCM, quindi dell'obbligo del Green Pass per i lavoratori. Il presidente Michelangelo Agrusti ha così smentito alcune voci circolate in mattinata in ambiti produttivi regionali. Il presidente dell'autorità portuale, Zeno D'Agostino, che nei giorni scorsi aveva paventato le dimissioni, al momento vede pochi margini di trattativa. Venerdì guarderò la situazione e se il porto non sarà governato dall'autorità ma da altri, allora prenderò la decisione, ha dichiarato. Auspica che con il buonsenso si possa arrivare a un equilibrio, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, precisando di non intervenire come regione sulle realtà produttive, perché, dice Fedriga, ho profondo rispetto delle istituzioni che le governano. Rischiamo, ha concluso Fedriga, di fare un danno enorme non solo all'economia della città, ma anche dei lavoratori dell'indotto. Sono più di 10.000 le famiglie, tra posti di lavoro diretti e no, il cui sostentamento dipende dal porto di Trieste. A fornire il dato è la Confetra, l'associazione che riunisce spedizionieri, agenti marittimi, terminalisti e spedizionieri doganali. Se non verrà disinnescato questo cortocircuito tra istituzioni e cittadini, si legge in una nota, si rischiano di bruciare in poche settimane 15 anni di lavoro e di sviluppo, con gravi conseguenze sull'occupazione che dureranno per molti anni. Sono tanti i settori che potrebbero essere a rischio o paralisi. La fotografia è della CISL che oggi ha diramato una nota spiegando proprio qual è la situazione in Friuli, Venezia e Giulia. Alcune aziende erogatrici di servizi pubblici vedono un personale al lavoro che sfiora il 60% di non vaccinati oppure sprovvisti di Green Pass. Si parla anche di alcune aziende come quelle legate alla raccolta di rifiuti, servizi del trasporto, dove qui sarebbe il 20% i lavoratori sprovvisti del certificato, stesso dicasi per la metalmeccanica. Anche il legno arredo è sotto controllo, si stima che il 30% dei lavoratori non sia vaccinato. Poi c'è un problema specifico che riguarda i lavoratori stranieri, i lavoratori dell'est Europa impiegati nei cantieri che sono vaccinati con lo Sputnik che non è riconosciuto in Italia, ma anche il personale sloveno vaccinato in Italia che non riesce ad ottenere il Green Pass né dal governo sloveno né dal governo italiano. Problemi anche per il settore agroalimentare, anche qui il 20-25% non è vaccinato, soprattutto nelle realtà legate alla gestione del prodotto fresco. preoccupazioni che riguardano anche il comparto pubblico perché proprio per i controlli si pone il problema del numero delle sedi, la quota di lavoratori senza il Green Pass nel comparto pubblico tra il 15 e il 20% e ad esempio 107 sono le sedi regionali da presidiare di cui soltanto 33 già dotate di guardie giurate. e i problemi relativi al controllo ma anche un appello alla calma da parte di tutti i datori di lavoro e impiegati dipendenti è arrivato dalla Presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi e Danieli che abbiamo sentito proprio su questo tema per le imprese che devono verificare il Green Pass e appunto valutare se c'è qualche problema eventualmente segnalato. la norma dice che in generale il tampone deve essere pagato dal lavoratore ma non esclude che possa essere pagato da qualcun altro quindi lascia libertà e lo trovo assolutamente giusto perché anche se oggi ci è venuto in aiuto un articolo dell'ultimo decreto dell'8 ottobre che dice che per specifica esigenza organizzativa un'impresa può chiedere l'esistenza o meno del Green Pass ad un lavoratore per un periodo sufficiente a rispondere a questa esigenza e quindi volendo io posso anche chiedere da qua a un mese chi ha il Green Pass e chi non ce l'ha il problema è che non dice la legge cosa succede se un lavoratore non mi risponde quindi siamo sempre da capo si tenta di aiutare ma poi si stenta a mettere delle sanzioni per far sì che la regola venga rispettata il datore di lavoro deve controllare chiunque entri in azienda italiano, straniero, dipendente, diretto, indiretto lo faremo, ci mancherebbe altro però siamo in una situazione che ha dell'assurdo perché ci troviamo nella situazione in cui la tutela della privacy porta ad avere una organizzazione aggiuntiva che è priva di logica per le imprese l'ultima cosa che voglio ribadire è calma, non è colpa di nessuno questa pandemia le aziende hanno difficoltà i lavoratori vaccinati ne hanno altre i lavoratori non vaccinati che anche per motivi magari giustificabili non si sono vaccinati hanno le loro motivazioni siamo tutti sulla stessa barca cerchiamo di mantenere questa consapevolezza e i costi di chi deve effettuare i tamponi tre volte a settimana ricadono anche sul servizio sanitario nazionale i numeri li fa la fondazione Gimbe con il suo presidente Nino Cartabellotta perché sarà necessario effettuare 8 milioni di tamponi a settimana in Italia mentre al momento ne vengono effettuati solamente 1 milione e 200 mila euro scusate, 200 mila con quali costi? e qui veniamo all'euro il vaccino per questi 4 milioni di persone che devono ancora che non hanno il Green Pass sono 4 milioni di lavoratori costerebbe 160 milioni di euro una tantum mentre invece i tamponi costerebbero alle tasche dello Stato 180 milioni di euro a settimana durante questo periodo noi abbiamo sostanzialmente documentato che se c'è stata una vera e propria impennata dei tamponi antigenici rapidi che sono passati più o meno da una media di 100 mila al giorno a quasi 175 mila non si può dire lo stesso per i nuovi vaccinati c'è stato un piccolo incremento durante la prima fase dell'estate ma poi di fatto il numero di nuovi vaccinati non ha mai avuto una sostanziale impennata quindi è evidente che noi adesso ci troviamo alle soglie della scadenza del 15 ottobre con un numero ancora importante di persone non vaccinate in tutta Italia sono sostanzialmente 8,4 milioni di over 12 che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino e di questi oltre 6 milioni e 2 sostanzialmente sono in età in età lavorativa noi abbiamo provato a stimare qual è un po' il numero dei lavoratori viene fuori una cifra intorno ai 4 milioni di lavoratori non vaccinati è chiaro che se io ho 4 milioni di persone non vaccinate per potergli rilasciare il green pass devo in qualche maniera effettuare il tampone dovendone fare 3 la settimana ci vogliono da 8 a 12 milioni di tamponi la settimana che è un numero che non riusciamo a fare perché oggi se ne fanno circa 1 milione e 200 la settimana grazie anche alle convenzioni fatte con le farmacie e questo permetterà ci sarà sicuramente un potenziamento da parte dell'esecuzione dei tamponi ma non potremo mai nel brevissimo termine quindi entro il 15 ottobre arrivare a questi numeri se noi dovessimo vaccinare questi 4 milioni di persone non ancora vaccinate avremo un costo per il servizio sanitario nazionale di 160 milioni di euro il costo per effettuare 3 tamponi la settimana per le stesse persone di 180 milioni sarebbe un costo settimanale assolutamente non sostenibile da un servizio sanitario nazionale che fa fatica voglio dire anche a fare i contratti per il personale quindi credo che sia fuori da ogni discussione da ogni logica poter coprire con il denaro pubblico il costo dei tamponi per chi ha deciso di non vaccinarsi con un vaccino che è già a carico dello Stato facciamo anche l'appunto sull'andamento del contagio in regione sono 95 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore con 9.448 tamponi effettuati in ospedale ci sono ancora 9 persone in terapia intensiva 39 invece negli altri reparti con un calo di 8 pazienti in isolamento 787 persone c'è anche un decesso registrato quest'oggi è un 85enne di Pordenone avvenuto in ospedale parliamo anche degli altri casi di positività rilevati nel sistema sanitario regionale un infermiere del Burlo di Trieste un medico dell'azienda sanitaria Friuli Centrale un infermiere dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina ha contagiato anche un ospite di una struttura residenziale per anziani a Gorizia e al fine di massimizzare la possibilità per i cittadini di ottenere il Green Pass tramite la vaccinazione l'azienda sanitaria Friuli Centrale ha reso disponibile agli utenti la modalità dell'accesso diretto senza prenotazione presso la sede dell'ente Fiera di Udine per la giornata di venerdì 15 dalle ore 8.30 alle ore 18.30 si tratta di prime dosi e quindi disponibili per tutti i soggetti che abbiano compiuto 12 anni e che non siano ancora stati vaccinati veniamo invece ai dati italiani delle ultime 24 ore 2772 i positivi individuati secondo i dati del Ministero della Salute ieri erano stati 2494 37 le vittime in un giorno ieri erano state 49 gli attualmente positivi in Italia sono 80.451 e sono 278.945 i tamponi effettuati con una percentuale di positività dello 0,79% 367 i pazienti ricoverati in terapia intensiva tra i meno rispetto a ieri i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.552 rispetto a ieri 113 in meno e adesso invece voltiamo pagina e parliamo di un processo quello a carico dei 4 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio Regeni che si aprirà domani nella prima udienza davanti alla terza corte d'assise a Roma verrà subito affrontato il nodo dell'assenza in aula degli imputati il generale Sabir Tariq e i colonnelli Usham Helmi Atar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif i giudici dovranno valutare così come già fatto dal GUP nell'ambito dell'udienza preliminare se la sottrazione degli imputati dal procedimento è stata volontaria in tal senso il processo potrà andare avanti con i 4 in contumacia altrimenti i giudici potrebbero chiedere una sospensione del procedimento il GUP aveva affermato nel decidere per il rinvio a giudizio che la copertura mediatica capillare straordinaria ha fatto assurgere la notizia della pendenza del processo ha fatto notorio nella lista dei testi presentata dai genitori di Giulio, Paola e Claudio anche i presidenti del Consiglio che si sono succeduti in Italia dal 2016 oltre che ministri degli esteri e sottosegretari con la delega ai servizi segreti nel confronto degli imputati la Procura di Roma contesta i reati di sequestro di persona pluriaggravato e nei confronti di un impietato i PM contestano anche il concorso in lesioni personali aggravate e il concorso in omicidio aggravato con la cronaca ritorniamo sul territorio con un grave incidente sul lavoro che si è verificato questo pomeriggio a Cividale un autotrasportatore straniero di 50 anni è stato ricoverato a Udine in gravi condizioni l'uomo è caduto dal cassone del mezzo pesante sbattendo violentemente la testa trasferito d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale di Udine l'infortunio appunto nel pomeriggio all'interno delle piazzale di un'azienda ubicata nella zona artigianale industriale di Cividale del Friuli sul posto anche i carabinieri e gli ispettori dell'azienda sanitaria a Trieste invece una donna di 72 anni è stata soccorsa questa mattina prima delle 10 lungo il sentiero del pescatore la signora stava percorrendo il sentiero assieme al marito quando a causa di un malore ha perso conoscenza sul posto i sanitari delle 118 i soccorritori della stazione di Trieste del soccorso alpino la donna è stata stabilizzata imbarellata e portata per 300 metri sul sentiero fino all'ambulanza per essere poi condotta in ospedale ritorniamo a parlare di economia la regione ha presentato oggi a Maniago nella sede del consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone gli incentivi e le opportunità contenute nella legge sviluppo impresa l'assessore Ebini ha parlato di un aumento di mille posti di lavoro dai nuovi insediamenti grazie a due bandi sentiamo il servizio spiegare a consorzi e aziende i regolamenti attuativi della legge sviluppo impresa affinché tutti siano pronti all'apertura dei bandi accogliere le opportunità offerte dalla legge questo è l'obiettivo dell'incontro di oggi a Maniago nella sede del consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone le risposte che sono giunte finora dal mondo produttivo sono assolutamente positive ha commentato l'assessore all'attività produttive Sergio Emidiobini tanto che potremmo aprire prospettive di occupazione per un migliaio di lavoratori per quanto riguarda in particolare la provincia di Pordenone ha ottenuto finora dalla regione 6 milioni su un ventaglio di progettualità di 35 milioni e una ricaduta occupazionale di 100 unità sviluppo impresa è una legge importante va spiegata vanno spiegati i calendari dei prossimi bandi le opportunità nuove che ci sono per esempio i contratti di insediamento e soprattutto le importanti risorse economiche che la regione metterà a loro a disposizione sia dei consorsi che degli associati il prossimo bando in tema di incentivi all'insediamento ha una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro ed è orientato alle PMI resterà aperto dal 25 ottobre al 25 febbraio un secondo bando riservato alle imprese da fuori regione si è aperto il 30 settembre per chiudersi a fine anno e conta su uno stanziamento di 1 milione di euro per quanto riguarda i nuovi insediamenti i settori che si intendono incentivare includono l'ICT la logistica il manifatturiero l'agroalimentare di nicchia la ricerca e lo sviluppo e la logistica il deposito di smistamento Amazon a Udine è entrato ufficialmente in funzione ne ha dato notizia la società la nuova struttura consentirà ad Amazon di potenziare ulteriormente i processi dell'ultimo miglio sia nella gestione degli ordini sia nella velocità di consegna ai clienti in particolare nella città di Udine nelle aree limitrofe il nuovo deposito che ha una superficie di oltre 4.500 metri quadrati creerà 20 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino entro il 2022 inoltre è previsto che i fornitori di servizi di consegna assumano 40 autisti a tempo indeterminato che ritireranno gli ordini dal deposito e li consegneranno ai clienti finali ed è tornato in presenza SICAM il Salone Internazionale Componenti di semilavorati e accessori per l'industria del mobile a Pordenone fino al 15 di ottobre per la dodicesima edizione il settore del mobile riparte da Pordenone con la dodicesima edizione di SICAM la fiera internazionale dedicata agli operatori del legno arredo l'evento ritorna in presenza ed è una cartina di tornasole del buono stato di salute del settore con 541 espositori da 29 paesi e una platea mondiale con visitatori da 132 stati successo anche per l'indotto fino a venerdì 15 giorno di chiusura dell'evento non ci sono camere disponibili in tutta la città finalmente SICAM dopo lo stop dello scorso anno dovuta alla pandemia rientra alla grande in presenza come ci accorgiamo anche dai piccoli ingorghi che cerchiamo di far fuori perché con la collaborazione della Polizia Municipale cerchiamo di non dare disturbo alla città ma è un grande evento come questo si merita anche qualche piccolo sacrificio siamo tornati ai numeri del 2019 stiamo aumentando gli espositori che provengono dall'estero normalmente provengono da 132 paesi già ieri alle 13 65 paesi erano 65 paesi al mondo erano presenti quindi grandissima edizione speriamo di arrivare a dei numeri domani sera quando chiuderemo la manifestazione di grandissimo rilievo come speriamo e come speravamo in questo rientro dalla pandemia un ritorno all'assoluta normalità il settore del mobile è assolutamente traina assolutamente un comparto che era un po' decotto nel tempo invece si è è stato rivisitato è stato rilanciato con la pandemia e con tutte le ristrutturazioni con il 110% che uno viene invogliato quindi con questo incentivo a rinnovare la casa all'esterno ma anche all'interno quindi grande spazio grande slancio per i mobili per tutto ciò che è il comparto siamo allo sport con l'udinese che si sta preparando in vista dell'ottava gara di Serie A domenica arriva il Bologna e dopo Deulofeo e Pussetto oggi si è rivisto in gruppo anche Iaialo buone notizie quindi per il mister Gotti che avrà anche lui a disposizione per domenica è cominciato il conto alla rovescia in casa udinese per il ritorno in campo che avverrà domenica alle ore 15 alla Dacia Arena contro il Bologna di Sinisa Mihailovic una gara attesa con particolare concentrazione perché può essere la gara della svolta per la banda Gotti che adesso deve iniziare a decidere cosa fare da grande in queste prime sette giornate si sono viste cose buone e cose meno buone ma c'è tanta fiducia in questa squadra che deve ancora esprimere il suo massimo potenziale ecco contro i Felsini potrebbe esserci il primo vero crocevia della stagione una vittoria farebbe fare un bel salto alla squadra soprattutto dal punto di vista mentale una sconfitta invece aprirebbe crepe che rischierebbero di essere poi complicate da gestire appuntamento quindi a domenica quando arriverà una squadra che prima della sosta dopo un periodo di appannamento è stata in grado di rialzarsi e di spazzare via la Lazio con un sonoro 3-0 sarà quindi un Bologna convinto dei propri mezzi quello che arriverà in Friuli e sarà di conseguenza una sfida molto equilibrata come racconta d'altronde la storia recente visto che i bianconeri e i rosso-blu hanno pareggiato tutte e tre le ultime sfide in cui si sono affrontati e per questa gara Gotti può sorridere visto che dopo i recuperi di Deulofeo e Pussetto oggi è tornato a lavorare in gruppo anche Mato Iairo il centrocampista ex Palermo ha superato i problemi fisici ed è a disposizione e con il rientro anche di Udogi e Larsen è atteso ora e solo Molina nei prossimi giorni è ancora presto per parlare di formazione ma la sensazione è che si partirà ancora con il 3-5-2 con Deulofeo e Beto favorito su Pussetto in attacco sugli esterni poi molto dipenderà dalla condizione dei nazionali che verranno valutati nelle prossime ore è tutto per questa edizione noi ci fermiamo qui vi ricordo comunque che si continuerà a parlare di questi temi che abbiamo affrontato per gran parte del notiziario ovvero l'entrata in vigore dell'obbligatorietà delle Green Pass sui luoghi di lavoro anche all'interno di Fair Play questa sera alle 21 insieme a Francesco Pezzella e ai suoi ospiti l'informazione ritorna invece in diretta alle 22.30 grazie e buonasera grazie a tutti